E per Mario Spezzi invece chi era il mostro di Firenze? E' difficile, per Mario Spezzi lo disse il procuratore generale, colui che normalmente deve sostenere l'accusa al processo di appello, che non c'era nessun elemento, neanche mezzo indizio, aggiungendo che l'indagine gli sembrava fatta dalla Pantera Rosa, questo fu detto pubblicamente. Aggiungendo che l'indagine gli sembrava fatta dalla Pantera Rosa, questo fu detto pubblicamente. Aggiungendo che l'indagine gli sembrava fatta dalla Pantera Rosa, questo fu detto pubblicamente. aggiungendo che l'indagine gli sembrava fatta dalla Pantera Rosa, questo fu detto pubblicamente. Aggiungendo che l'indagine gli sembrava fatta dalla Pantera Rosa, questo fu detto pubblicamente. Aggiungendo che l'indagine gli sembrava fatta dalla Pantera Rosa, questo fu detto pubblicamente. e darà in merita che se lo merita e lì lo sa chi sbaglia chi è giusto e chi è storico